Safin Finanziamenti. Valutiamo il tuo oggetto prezioso da tuo impegno ed emettiamo subito un finanziamento pari al suo valore. Vieni a trovarci! Il piano di utilizzo delle aree remaniali marittime proposto dall'Aggiunta regionale della Campania riduce la percentuale di spiagge libere ad appena il 30% e la battigia dai 5 metri attuali a 3. Dopo aver appreso la proposta, Legambiente Campania non ci sta e in una nota ha tenuto a ribadire quali dovrebbero essere invece gli obiettivi da portare avanti. Il PUAD che occorre alla Campania, dichiara Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania, deve promuovere e valorizzare progetti ambiziosi di innovazione ambientale, economica e sociale, che con la riqualificazione delle aree costiere garantiscano il rilancio del settore turistico in un'ottica di sostenibilità e di fruizione per tutti. I principali problemi a cui l'Associazione Ambientalista fa riferimento sono le tante criticità riscontrabili sulla linea di costa. Scarichi fognari civili e industriali, ritardi nella depurazione, mancate bonifiche, turismo sempre più impattante e abusivismo edilizio. Il piano proposto dall'Aggiunta regionale, sostiene Legambiente, mira a mantenere intatto se non ad aggravare lo stato attuale di supersfruttamento della linea di costa, sia essa sabbiosa o rocciosa. Inoltre, il piano è stato redatto senza la necessaria procedura di valutazione ambientale strategica, prevista dalla Comunità Europea per tutti i piani e programmi che interagiscono con l'ambiente, assenza che ne inficia la stessa legittimità. Risulta evidente che il piano non si pone né l'obiettivo di tutela del paesaggio e dell'ambiente, né tantomeno quello del rispetto del diritto alla balneazione dei cittadini. Infatti, ai fini della scelta del concessionario, i meccanismi premiali previsti addirittura incentivano la cementificazione, le recinzioni fisse, l'installazione di manufatti non amovibili per le funzioni turistiche accessorie alla balneazione, invece di promuovere proposte che migliorino l'accessibilità e la furibilità dell'area demaniale, l'uso di attrezzature non fisse e completamente amovibili, idonee misure di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Ed è per tutte queste ragioni che domani mattina Lega Ambiente Campania, insieme a una rete di associazioni, sarà a Palazzo Santa Lucia per chiedere al presidente De Luca e agli assessori di Scepolo e Casucci, alla giunta e al Consiglio regionale, di fare un passo indietro, per farne tanti in avanti, candidando la Campania ad essere la regione capofila in Italia nell'idea di gestione e valorizzazione sostenibile della costa.